La motonave SIS e le maestranze tarentine la loro alacre bravura. Accanto all'arcivescovo i dirigenti del cantiere e mentre all'infrangersi dello spumante si solleva la rituale trepidanza dei costruttori osserviamo la nave che scivola impeccabile verso il suo destino. È lunga 144 metri, larga 19, la sua portata è di 10.000 tonnellate. Modello aggiornatissimo che testimonia della nostra matura industria nautica alla quale dà un decisivo incremento la Fiat Grandi Motori. Appena nata la SIS si è immersa nel mare come nel suo elemento naturale, di sempre. Gli operai di Taranto possono andarne orgogliosi.